Nel fine settimana sulla regione affluiranno due tipi di masse d'aria diverse. Sabato aria secca, ancora da ovest, mentre per la situazione di domenica avremo una depressione in avvicinamento dall'Atlantico che formerà molta nuvolosità sull'Italia intera e anche sulla nostra regione. Quindi per la giornata di sabato prevalenza di bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso su pianura costa, bel tempo al mattino sui monti, poi dal pomeriggio qualche locale nuvolamento. Temperature massime intorno ai 20-21 gradi in pianura, 17-18 sulla costa dove soffierà brezza, minime ancora piuttosto basse di notte con valori anche sotto zero sui monti, mentre per quanto riguarda la pianura valori intorno ai 5 gradi, 10 gradi sulla costa. Per domenica cielo probabilmente coperto con piogge sparsa in genere deboli, soffierà bora moderata in pianura sostenuta sulla costa, forte dalla sera. Sui monti nevicate oltre 1.500 metri circa, in genere deboli, forse un po' più consistenti sulle Alpi Giulie. Lunedì avremo variabilità ancora con del vento di bora che poi si attenerà completamente nella giornata di martedì. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.